I deputati del Movimento 5 Stelle, Luca Frosone ed Enrico Assegneri, hanno incontrato il Ministro della Salute Giulia Grillo per discutere sul sistema sanitario in provincia di Frosinone, che presenta enormi criticità. Abbiamo da sempre criticato l'operato del commissario straordinario della ASL di Frosinone Luigi Macchitella, sia per carenza dei requisiti, sia per le sue azioni che passano dalla chiusura del punto di primo intervento di Anagni all'atto aziendale completamente disatteso, affermano i deputati pentastellati. La ASL di Frosinone è stata così trasformata in un totale far west amministrativo, dove qualcuno viene lautamente ricompensato per non fare nulla e molti si trovano a fare turni massacranti per dare una risposta alle esigenze del territorio in carenza cronica di servizi. Luca Frosone ed Enrico Assegneri proseguono con una pesante accusa alla gestione commissariale, una gestione pessima che si basa su esternalizzazione a non finire e che a malapena riesce ad assicurare gli stipendi. Quindi i due portavoci alla Camera sottolineano come tutto questo avvenga con il silenzio assordante del presidente Nicola Zingaretti, commissario regionale alla Sanità nel Lazio, troppo preso a scalare il suo partito. La conclusione è altrettanto polemica. Abbiamo presentato in passato molti esposti su quelli che riteniamo siano abusi, danni, erariali e sprechi. Tutto il carteggio è ora nelle mani del ministro. Pensiamo che sia arrivato il momento di cambiare realmente passo tutelando e potenziando finalmente la sanità pubblica. Per noi questa è la priorità assoluta.